è vero che ti sei morsicato la lingua stamattina? va 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 ciao ciao salte buono ciao salte buono stai con lo zio ma si sta bene anche qua si sta bene ma diceva che doveva arrivarci no Toscano non è appallato è appallato sul tavolo che ci vuoi fare? purtroppo è vero siccome tu non parli vedi il cane sediti sediti ciao saluti 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 oh bene oh cina sediti Mauro eh volevi andare in piscina non ho fungito con lui ah che vi sono andato a pescare ma non è meglio non è in preciso ad un processo di bella Grazie.